Il sabato un appuntamento pubblico, Celano parla alla città, sarà anche un modo per serrare le file e per lanciare gli ultimi giorni di campagna del cittadino. Certo, parleremo al cure dei nostri concittadini, dei serenitani, parleremo all'orgoglio, alla dignità, a chi ha il coraggio di ribellarsi per rivendicare la propria autonomia, la propria libertà, per ribellarsi contro il tentativo di protrarre un sistema di controllo sociale sulla città, che sta diventando una sorta di sistema dinastico degno della dinastia dei Ming, delle dinastie cinesi. Insomma, noi vogliamo restituire a Salerno dignità e libertà, vogliamo dare un'identità alla città, lo diremo fortemente sabato, diremo qual è il nostro programma, qual è il nostro sogno di città e siamo convinti di convincere la gente a votarci e siamo convinti anche che il 5 giugno ci saranno delle grandi sorprese, andremo al ballottaggio e ci giocheremo poi il 19 una grande partita uno contro uno, senza il sistema di potere che è rappresentato dai consiglieri e dagli assessori uscenti, dai candidati che sono espressione di centri di potere. Ebbene, in quell'occasione uno contro uno sarà un'altra sfida, una sfida che vinceremo per restituire Salerno ai serenitani.